Dicevamo Rugbyland, è arrivato il momento del primo libro, del primo fumetto, edizione Becco Giallo, che rincontreremo molto presto in questa rassegna. Andiamo a parlare di rugby, noi lasciamo quindi lo spazio ad Andrea e appunto lo lasciamo raccontare, questa bellissima storia, la storia del rugby italiano. Buonasera a tutti. Allora, che cos'è Rugbyland, viaggio nell'Italia del rugby? È un libro un po' particolare. Perché particolare? Beh, innanzitutto perché non è un libro scritto, non è un libro a fumetti, non è un libro di fotografie, è tutto questo insieme. È un libro che parla tanto anche con le immagini, abbiamo anche infatti delle immagini da far vedere che possono anche spiegare che cos'è questo libro. Perché innanzitutto un libro sul rugby? Un libro sul rugby perché il rugby è uno sport che in questi anni si sta diffondendo in Italia moltissimo, si parla soprattutto di rugby quando si vede la nazionale vincere contro l'Irlanda, contro la Francia come quest'anno, si parla tanto del terzo tempo, si parla tanto dei campioni, però si va poco a parlare di tutto ciò che è il rugby vissuto quotidianamente, il rugby vissuto nel fango, vissuto in quei campi dove magari non ci sono nemmeno le H che sono le porte dove si può calciare cercando di far entrare questo strano pallone ovale e quindi insomma questo mondo che è fatto di amicizia, di solidarietà, di rispetto dell'arbitro, di rispetto degli avversari, tutti dei valori che dovrebbero essere portati avanti da tutti gli sport ma che magari sono portati avanti solamente da sport come il rugby e pochi altri, mentre altri sport ormai sono corrotti dai soldi, ecco ci interessava andare a scoprire che cos'era questo sport e andarlo a scoprire attraverso, facendo un viaggio proprio nello stivale ovale. Ecco, tra pochissimo siamo pronti a vedere appunto le immagini che scoreremo ad uno ad uno con te e tu appunto ci racconterai attraverso queste istantanee quello che è appunto la storia del rugby italiano, solitamente Andrea lo fa in piedi col pubblico eccetera, anche qui al pubblico, però questa volta è costretto naturalmente a stare seduto ed è naturalmente costretto ai tempi televisivi, quindi è un esperimento anche per noi, è un esperimento anche per noi, siamo contenti di farlo e quindi partiamo con Rugby Land. Sì, cerchiamo di essere velocissimi perché le immagini sono davvero tante e insomma però c'è tanto da raccontare, quindi partiamo subito. Primo capitolo del libro, il libro è diviso in 15 capitoli, 15 non è un caso, sono i giocatori, i ruoli delle squadre di rugby, si gioca in 15, ogni ruolo ha bisogno di una determinata caratteristica fisica e qui vuol dire anche essere uno sport inclusivo perché c'è bisogno di quello alto, c'è bisogno di quello basso, c'è bisogno di quello grosso, c'è bisogno di quello muscoloso, di quello meno muscoloso e quindi è uno sport adatto a tutti. È uno sport adatto a tutti, siamo partiti a dedicare il primo capitolo, al rugby amatoriale, abbiamo mandato delle indicazioni al disegnatore e il disegnatore purtroppo ha iniziato a mandarci indietro dei disegni da giocatore di football americano, al che ci siamo un attimo disperati e abbiamo detto questo libro non riusciremo mai a farlo perché se il disegnatore non sa nemmeno la differenza fra football americano e rugby, sì c'è bisogno di spiegare cos'è il rugby in Italia, però ahimè come faremo. Poi in realtà il disegnatore è riuscito piano piano a migliorare, è riuscito anche a fare dei disegni molto caratteristici come possiamo vedere qui, quindi insomma riuscire a cogliere anche degli elementi particolari del rugby, qui vediamo il placaggio, qui vediamo un'alzata in tusci, il famoso ascensore e qui vediamo un calcio, ma a fine libro quando poi dopo è riuscito anche a disegnare queste bellissime cose gli ho chiesto ma come ti è venuto in mente quella volta? Perché non sei andato su Google a cercare che cos'era rugby e che cos'era football? lo cercavi Google e capivi cos'era rugby e football. Ecco Gabriele Gamberini che è il disegnatore purtroppo non è molto adatto, non conosce molto bene la tecnologia, si è preso una vecchia VHS, si è guardato un vecchio film che come potete vedere è Bulldozer, se l'hai sciroppato tutto e pensava che quello fosse rugby e invece era football e si è messo a disegnare con quello. Per fortuna alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo partiti con questa avvertura proprio parlando di rugby amatoriale raccontando di questa squadra dove gioco che si chiama Torelli Sudati Rugby Club, il nome è già un programma, è una squadra un po' in realtà scappestrada come quella di Bulldozer, quindi forse qualcosa Gabriele ci aveva azzeccato insomma nello spirito fondamentale delle squadre. Queste sono alcune immagini dei Torelli Sudati che hanno cercato di far nascere una squadra di rugby proprio per coloro che fino ai 20 anni non avevano giocato, non avevano avuto la possibilità di avvicinarsi a questo bellissimo sport perché a 20 anni magari in alcuni luoghi d'Italia dove si gioca, perché si gioca molto in alcuni luoghi e pochissimo in altri, se non sei nato in quei luoghi non hai mai giocato e non riesci ad avvicinarti a questo sport e invece lo spirito era proprio il contrario. Cerchiamo di avvicinare tutti a questo sport, non solo al terzo tempo ma anche ai primi due tempi. Perché abbiamo voluto fare questo? Non solo un omaggio al rugby amatoriale ma per far vedere che il rugby in realtà è uno sport per tutti. Siamo magari abituati a vedere questi campioni dei sei nazioni della Nuova Zelanda che sono dei mostri di muscoli e in realtà non è vero, non è sempre così. Non è sempre così e magari questo è un esempio, questo è Diego Dominguez, un uomo del fisico modesto ma è stato il più grande mediano d'apertura della nazionale italiana che abbiamo avuto in passato ma che probabilmente avremo anche in futuro. È la persona che ho intervistato nel capitolo su Milano e mi ha detto quattro cose molto importanti, secondo me su rugby come l'ha vissuto lui. Il rugby è determinato da quattro caratteristiche. La prima è l'aggressività, cioè il voler raggiungere il tuo obiettivo, metterci la passione, la forza, cercare di arrivare e gettare il cuore oltre l'ostacolo. Il secondo è la capacità, l'intelligenza di capire cosa sta succedendo in quel momento in campo per prendere la decisione alla svelta e riuscire a farlo prima dell'avversario. La terza è la tecnica, quindi la tecnica di passaggio, di placcaggio, di tush. E solo la quarta sono i muscoli. Se tu non hai queste tre cose prima dei muscoli, non serve avere i muscoli perché non servono a niente. Perché il rugby non è uno sport brutale dove cerchi di sfondare muscolo contro muscolo, ma è uno sport d'intelligenza dove cerchi di insuignarti nelle maglie dell'avversario. Penso che siano cose bellissime queste che ha detto Diego Dominguez e visto i risultati che lui ha ottenuto giocando, che sia da ascoltarlo, forse non solo in campo ma anche portare questi insegnamenti fuori dal campo. Qui invece siamo a Genova con Marco Bollesan, un'altra icona del rugby italiano. Lui ha giocato un po' prima di Dominguez, Dominguez ha finito nel 2003, qui stiamo parlando di anni 60 e 70, perché Genova. Genova è sparita dalle geografie ovali italiane. Però è la città dove il rugby, tra fine 800 e più probabilmente inizio a 900, è arrivato. È arrivato sbarcando dalle navi come una merce. Cioè le navi inglesi quando arrivavano a Genova portando le varie merci a un certo punto hanno portato anche questo pallone ovale, i marinai si sono messi a cercare un campo, un prato dove giocare e i camalli portuali genovesi li hanno portati in un prato lì vicino e da quel momento è sbarcato il rugby in Italia e tramite soprattutto le università ha iniziato a diffondersi prima nel nord Italia. Avete visto prima una tavola fumetti perché questa è una caratteristica, come si diceva prima del libro, alcune parti, alcuni approfondimenti dei capitoli sono fatti proprio tramite i fumetti. Come è arrivato il rugby in Italia è raccontato tramite fumetto. Qui invece siamo insieme a Fulvio Di Carlo che è un pilone dell'ex Aquila Rugby, un ex pilone dell'Aquila Rugby. L'Aquila è una città fortemente collegata con il rugby. Lui è sempre stata, il rugby arriva da Roma già attorno alla fine della seconda guerra mondiale, anche un po' prima scusate, si è diffuso, si è imperneato nello spirito di questi abitanti aquilani di montagna che lo hanno fatto un po' il loro simbolo. È diventato ancora più simbolo dell'Aquila nel momento in cui, dopo il terremoto, dopo il terremoto perché la città si è riavvicinata ai propri valori, ai propri simboli, il rugby era il principale fra questi, la squadra è tornata nella massima serie dopo un periodo di buio. Ma è legato al terremoto anche per altri motivi. Ad esempio l'Aquila Rugby è stata premiata dalla Federazione Internazionale Mondiale di Rugby con il premio The Spirit of Rugby, è uno spirito di, è il premio che viene dato ogni anno a chi nel mondo ha portato avanti meglio i valori del rugby. Ecco l'Aquila quell'anno l'ha fatto cercando di aiutare i giocatori, i giocatori cercando di aiutare la popolazione, gli sfollati e creando i campi profughi. D'altronde i regbisti sono abituati a rialzarsi dopo una mischia e gli aquilani questo l'hanno capito moltissimo perché parlando con gli aquilani ho capito lo spirito positivo che il rugby riesce a passare le città. Qui invece siamo a Rovigo, il grande derby Veneto con Padova, si scontrano fra Rovigo e Padova i due grandi registri regbistici mondiali, quello è l'Italio nato nell'Università Padova e quello invece più popolare, più contadino e quindi quando si parla di derby Rovigo-Padova anche sono i tifosi stessi che anche con ironia riportano avanti questo storico scontro come esattamente c'è in Inghilterra, in Gran Bretagna, fra Inghilterra sport elitario e invece Galles sport giocato da minatori. Come vedete qua ancora un'immagine su Rovigo, qui invece siamo a Treviso e visti i risultati che sta ottenendo Treviso ultimamente in Celtic League, simbolo delle squadre italiane, possiamo dire che stanno portando avanti una terza linea del rugby, dopo quello elitario e quello popolare loro sono inventati il rugby estetico perché lo giocano non solo un rugby vincente ma anche un rugby molto bello. A Treviso ho intervistato due persone, Vittorio Munari che è il commentatore che conoscerete perché è il commentatore di Sky delle partite dell'Italia, Ludovico Nitoglia che è un'ala e anche lì ho avuto modo di parlare non solo di rugby ma anche di altro. Questo è un capitolo sul rugby femminile invece perché il rugby femminile è uno sport in crescita, abbiamo voluto metterlo perché le ragazze che giocano a rugby hanno diritto anche loro di avere i loro spazi e invece questa è una squadra di miti greci, perché ogni giocatore come il suo primo ha bisogno di una determinata caratteristica e per spiegarlo anche a chi queste cose non le sa abbiamo voluto associare ai miti greci. Quindi c'è il Minotauro che è un flanker perché è un grande placatore, c'è Orfeo perché Orfeo che è andato nell'Ade e non poteva girarsi, è l'estremo perché l'estremo è l'ultimo giocatore e non ha diritto di girarsi, c'è Atlante che sostiene un mondo ovale che è un pilone perché il pilone è un uomo forzottissimo che deve sostenere la mischia, c'è Icaro perché l'ala è quella che vuole in meta e quindi nessuno poteva volare in meta meglio di Icaro. Però siccome il libro vuole, si ha tanti aneddoti per chi del rugby è curioso ma vuole essere un libro per tutti, alla fine abbiamo voluto mettere anche le dieci regole fondamentali del rugby ma non le ho spiegate io perché insomma come bene o male tutti quelli che giocano o giochicchiano a rugby non sanno tutte le regole, allora le ho fatte spiegare da Edoardo Gori che è il mediano di mischia della nazionale italiana. Andrea Ragone è bellissima la sua presentazione, il suo racconto del rugby italiano, riprendiamo in mano il libro perché tu hai citato dottor Ernesto Munari che è presente nel libro perché è bellissima questa frase il rugby è come una vendita porta a porta fatta con garbo e passione un seme da costruire ogni giorno e portare sempre con sé solo così un giorno potrà fiorire in primavera. Ecco chiudiamo con questa cosa, c'è tanta poesia attorno al rugby ecco chiudiamo in 30 secondi, chiusiamo con te, perché secondo te? Perché come spiega Munari nel libro il rugby è diviso in tre tempi il primo e il secondo ma fondamentalmente il terzo cioè condivisione, il rugby vuol dire condividere con gli altri una passione c'è prima lo scontro e poi c'è l'amicizia, c'è l'unione nel fondamentale terzo tempo che è il motivo per cui il rugby sta dominando così tanto. Andrea noi ti ringraziamo davvero, è stato un esperimento per te anche per noi, interessante però bello, davvero Rugbyland, dicevo, edizioni Becco Giallo lo trovate in tutte le librerie, naturalmente anche nella nostra noi andiamo con un clip e torniamo noi andiamo con un clip tra un attimo e poi torniamo naturalmente perché fra pochi minuti sarà il momento di spostarci sul main stage dove gli Amari cominceranno la loro performance live il primo di tanti concerti di questo Sherwood Festival tantissimi davvero ma avremo modo di ricordarli tutti clip e poi torniamo per lanciare il concerto Grazie mille. 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 Grazie a tutti